Allora, è il premio Asprobe, questa sesta corsa a sei al via, al numero uno, Trento Guasimo, Giovanni De Simone Junior, al due, Stiacino Jet e Enrico Somma, al tre, Gregor Bintor, Paolino Sepe, quattro, Rising New Star, Antonio Francese, cinque, Spitfire Gar, Giovanni, scusate, Giampiero Abagnale, e sei, Roby Alca, Antonio Simioli. Con calma, Spitfire Gar, l'esterno è molto veloce, Roby Alca cerca di contenerlo, Rising New Star, Roby Alca insiste e, in poche battute, prende l'iniziativa mentre sbaglia, Re, Robintor. E allora, davanti c'è Roby Alca, davanti a Rising New Star, vediamo i 200 iniziali, sono già in decelerazione, l'impressione è questa, infatti, se ho preso bene, io ho 15 per i primi 200. Roby Alca in vantaggio, Rising New Star di rincalzo, poi, in terza posizione, Trento Guasimo, largo, Spitfire Gar, seguito da Rego Bintor, che però è stato squalificato, quindi il drappello è chiuso da Stiacino Jet. Il passaggio ai primi 600 metri in 48,7, c'è addirittura un 33,7 dai 200 ai 600 iniziali, gruppo ovviamente compatissimo, alle spalle del battistrada Roby Alca, che risparmia tutto il risparmiabile, e arriva così agli 800 iniziali in uno 5,6, con una quarta frazione addirittura in 16,1. Lo segue sempre lungo la corda Rising New Star, al largo Spitfire si porta presso Trento Guasimo, e così si arriva al chilometro, in uno 20,6. Ma si sta accelerando, c'è un 14,9 di quinta frazione per completare il chilometro, e ora il ritmo cambia drasticamente, anche perché Trento Guasimo prova la terza ruota. Lo segue all'esterno Stiacino Jet, siamo a metà della piegata finale, con Roby Alca in vantaggio, Rising New Star che lo segue. A largo Spitfire Gar è scavalcato, da Trento Guasimo a centropista prova anche Stiacino. 200 per venire a casa, con Roby Alca in chiara evidenza, poi Rising New Star che lungo la corda si riprende, a largo Trento Guasimo sembra aver esaurito la punta, è più fresco invece lo speed di Stiacino. Intanto Roby Alca ha chiuso a suo favore la partita e va a vincere facile davanti a Rising New Star e a un ottimo Stiacino Jet. Il totale è 2,3 e un decimo, quindi una media tranquilla, però c'è 42,5 per gli ultimi 600 metri. Roby Alca vince con Antonio Simioli per il training di Angelo Palumbo, i colori del signor Salvatore Carandente. La quota 2,62 e il tempo al chilometro direi intorno all'1,16,8.